adagiato nel mezzo di un giardino in fiore con l'aria impregnata dai profumatissimi oleandri e dai gelsomini troviamo il più grande ristorante self service del parco famoso per la squisitezza della sua cucina regionale dai primi piatti alle specialità a base di pesce crostacei carne tenerissima e verdure di prima scelta tutto questo comodamente a portata di mano e preparato in maniera da soddisfare tutti i gusti in continua uscita dalle cucine in cui gli chef scelgono giorno per giorno menù sempre nuovi ed accurati sotto cascate di rampicanti in un meraviglioso tappeto di fiori colorati tra i biscus gerani ginestre e migliaia di margherite e gelsomini rispecchiano ben 18 piscine con acqua termale oltre ad un'enorme piscina di acqua di mare e due piccole vasche per bambini dislocate secondo sapienti criteri estetici e funzionali durante la giornata sia per mantenere una temperatura costante nelle piscine che per motivi igienici viene continuamente immessa nelle vasche acqua nuova ogni sera tutte le piscine termali dei giardini poseidon vengono svuotate pulite accuratamente e riempite nuovamente con l'acqua che proviene direttamente dalle sorgenti del resto la generosità con cui la terra dona ogni giorno agli schitani la sua preziosa acqua termale è la caratteristica che rende famosa da sempre la baia di citara in tutto il mondo i nomi delle varie piscine sono ispirati alla mitologia greca oppure ai nomi degli imperatori romani e ciò non senza motivo poiché nelle calde sorgenti che si trovano presso la spiaggia di citara facevano il bagno le fiere donne greche e le bellissime romane è sempre stato così gli dei amano questo luogo seguire un giusto percorso termale in questo immenso paradiso d'acqua fumi e fiori significa passare gradualmente e lentamente da una piscina all'altra dalla più fredda alla più calda inframezzando brevi periodi di riposo fra un bagno e l'altro praticate in modo ragionevole e secondo indicazione medica le sorgenti vulcaniche di citara che alimentano le piscine termali dei giardini poseidon sono in grado di ridare all'organismo il suo equilibrio e di procurargli un miglioramento delle condizioni di salute scoprirete quanto sia vero il famoso principio salus per aquam secondo cui la salute si ottiene semplicemente attraverso l'uso dell'acqua l'azione benefica dell'acqua termale a diverse temperature è potenziata in alcune piscine dalla pressione degli idromassaggi direzionabili un lusso che ai giardini poseidon è una semplice naturale normalità l'enorme rilassamento del corpo e dello spirito nel passare da una piscina all'altra è una costante che accomuna tutti gli ospiti del parco l'anima si rasserena gradualmente mentre poseidone veglia sull'azione benefica delle sue acque termali grazie 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 grazie